Ancora un'iniziativa della rete aderente al progetto Prima, promuovere le risorse per l'infanzia mediante approcci innovativi, selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Progetto che va avanti da tre anni, mettendo a confronto scuole, famiglie, comunità educante di tre territori diversi, tante le esperienze venute fuori in questi anni. È un progetto che, così come per tanti altri aspetti della nostra vita, abbiamo dovuto ripensare a seguito dell'emergenza Covid. Per noi questo meeting a Crotone rappresenta un nuovo punto di partenza per dare forza ancora di più alle attività sui territori del progetto Prima-I, quindi stanno ripartendo a regime tutte le attività in presenza nelle scuole, le attività di sostegno alla genitorialità sui territori e tutte le attività correlate, gli eventi culturali e sociali previsti dal progetto. Stanno ripartendo anche con una nuova ottica e con nuove domande che ci poniamo. Il punto che vogliamo focalizzare in questo meeting è proprio questo. Ci si interroga su come la biologica deve intervenire in quest'epoca in cui il digitale ha preso un forte spazio a seguito dell'emergenza Covid. Su questo cerchiamo di relazionarci con professionisti per approfondire delle tematiche che poi riporteremo all'interno delle attività di progetto.